buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buongiorno amici e buona nuova settimana siamo nella settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 ed è una settimana un po povera di nuovi eventi astrali l'evento più importante sarà la luna nuova o novilunio che dir si voglia che avverrà il 2 mercoledì 2 ottobre alle 20 e 50 a 10 gradi della bilancia e sarà accompagnata ma non da noi nella zona del sud america cile sud del peru e argentina da un eclissi solare anulare come sempre la luna nuova è un'occasione importante per allinearsi ai ritmi cosmici e quindi magari prendersi un po di tempo per meditare si dice che anche le crisi siano particolarmente importanti dal punto di vista energetico devo dire che dal punto di vista astrologico io non ho mai riscontrato particolari avvenimenti intorno all'eclissi nel senso che comunque ci sono sempre un paio di eclissi ogni anno e siccome la tradizione riporta che comunque l'effetto dell'eclissi dura per mesi e mesi in realtà questi cosiddetti effetti si possono ricondurre tranquillamente ad altri aspetti planetari che spesso sono più pregnanti in ogni caso la luna nuova quindi un nuovo mese lunare quindi un nuovo inizio possiamo mettere i nostri intenti possiamo per i primi 15 giorni lavorarci per farli crescere sempre di più ebbene è importante appunto porsi questi scopi questi progetti e magari meditare appunto nel periodo della luna nuova soprattutto sui temi del segno in cui la luna nuova si si forma in questo caso è la bilancia la bilancia sappiamo che è il segno dei compromessi il segno dell'equilibrio è il segno dei contratti degli accordi insomma si cerca di far coesistere far cooperare tutte le persone quindi la bilancia un segno legalitario quindi è importante magari rivedere i propri contratti tra virgolette con gli altri che vuol dire semplicemente anche come ci poniamo noi rispetto all'altro se ci facciamo rispettare se ci facciamo schiacciare come conduciamo i nostri colloqui e le nostre i nostri compromessi appunto le nostre trattative con gli altri importante è sempre cercare l'armonia ovviamente con l'ambiente ma anche rispettare la propria individualità è sempre un sottile gioco d'equilibrio che è spesso proprio il tema fondamentale del segno della bilancia ovviamente se siete anche un po artisti questo è un momento importante per attingere la vostra creatività perché la bilancia è uno dei segni più artistici insieme ai pesci ma anche il leone cioè tutti ogni segno ha una componente ovviamente artistica però la bilancia in particolare sia dal punto di vista del segno grafico dell'armonia dei colori ma anche dell'armonia delle parole della poesia ecco è un segno particolarmente talentuoso in questo senso e quindi visto che la luna nuova si forma in questo segno possiamo anche noi magari festeggiare allinearci a queste energie con la nostra creatività vi dicevo che a parte la luna nuova e queste eclissi non ci sono altri movimenti di pianeti particolari ovviamente i pianeti continuano la loro corsa e vediamo dove si trovano questa settimana cominciando dal più lento plutone che è sempre a 29 gradi del capricorno sempre retrogrado nettuno è a 28 gradi dei pesci sempre retrogrado urano a 26 gradi del toro sempre retrogrado abbiamo sostanzialmente quasi tutti i pianeti lenti in moto retrogrado a parte giove che però inizierà il moto retrogrado la prossima settimana e a proposito di giove si trova ora a 21 gradi dei gemelli mentre saturno si trova a 14 gradi dei pesci sempre retrogrado marte si sposta dai 14 ai 17 gradi del cancro venere dagli 8 ai 16 gradi dello scorpione mercurio si sposta dai 6 ai 18 gradi della bilancia mentre il sole dai 7 ai 14 sempre della bilancia e la luna la troviamo a inizio della settimana nella prima decada della vergine attraversa quindi il serio della bilancia e dello scorpione appunto la troviamo alla fine dello scorpione domenica notte domenica sera e vista la panoramica di dove si trovano tutti i vari corpi celesti del nostro sistema solare passiamo a vedere come questo si riflette sui vari segni cominciando come sempre dalla riete il nostro riete si ritrova questa settimana l'opposizione di sole e mercurio dalla bilancia questa interesserà sostanzialmente la prima e la seconda decade quindi un pochettino di stanchezza che magari può permanere per qualche giorno non di più e soprattutto però un po' di nebbia mentale un po' di mancanza di concentrazione la seconda decade tra l'altro risente anche della dissonanza di marte che appunto è proprio lì piazzata piazzato nella seconda decade quindi potrebbe effettivamente trovarsi a essere un pochino a sentirsi un po' svuotato un pochino demotivato insomma con gli artigli un po' smussati diciamo così e quindi cercate di non arrabbiarvi perché appunto il nervosismo potrebbe essere molto alto quindi soprattutto per la seconda decade rimane l'appoggio di giove dal segno amico dei gemelli che abbiamo visto è fermo sui 21 gradi qui dall'inizio della terza decade e quindi chi è nato alla fine della seconda decade all'inizio della terza sicuramente riceve un input importante da giove che sappiamo è un po' il pianeta più benevolo quello che apre un po' le porte che porta un po' di di fortuna e soprattutto di fiducia in se stessi chi appartiene alla fine della terza decade quindi proprio gli ultimi due giorni riceve ancora la dissonanza di plutone quel famoso aspetto che un po' tutto l'anno scorso vi ha infastidito ebbene ormai gli effetti sono comunque un po' blandi però potrebbe tornare questa sorta di sfiducia in se stessi quindi fate attenzione a non buttarvi giù plutone richiede che si lasciano andare delle cose è importante la trasformazione ma la trasformazione spesso indica anche a volte la fine di alcune situazioni precedenti quindi non attacchiamoci al passato e lasciamo andare la luna non vi aiuta molto questa settimana infatti non è in segno o è in segni neutri o è in bilancia il segno opposto al vostro quindi dal 2 fino al 4 verso le 13 e 30 ebbene sono due giornate e mezzo quindi in cui potreste avere la luna storta e cari amici della bilancia volate un po' basso non fate troppi voli in alto perché insomma la caduta potrebbe essere potrebbe fare un pochino male e soprattutto cercate di tenere a bada l'aggressività e il nervosismo per il toro questa settimana potrebbe esserci il rischio di prendere decisioni avventate soprattutto se appartenete alla seconda decade ma anche alla terza vi ricordo infatti che urano è sempre presente nel vostro segno appunto sui gradi della terza decade mentre venere la signora dei sentimenti degli affetti è nella seconda decade in opposizione al vostro segno e quindi proprio le decisioni sentimentali potrebbero essere affrettate quindi vi consiglio di riflettere soprattutto magari con la luna nuova in bilancia vi potrebbe aiutare molto per il resto godete di tantissimi appoggi da parte dei pianeti lenti soprattutto i soliti plutone nettuno saturno sono dalla vostra parte e aiutano soprattutto seconda e terza decade sempre a prendere la direzione giusta soprattutto nel lavoro o nelle decisioni nei programmi nei progetti importanti della vita la prima decade rimane un po sguarnita di appoggi non ci sono appoggi né pro né contro mentre la seconda decade riceve anche l'appoggio di marte quindi seconda decade sarà molto pimpante determinata super assertiva ecco invece la prima decade dicevo non riceve appoggi particolari ma neanche aspetti negativi e quindi diciamo che si potrebbe trattare di una settimana un po tranquilla senza grandi eventi luna super positiva per voi lunedì e martedì poi sarà neutra e invece il weekend a partire dal primissimo pomeriggio di venerdì fino a tutta domenica ebbene fate attenzione perché la luna è in scorpione nel segno opposto e potrebbe segnare un weekend all'insegna delle emozioni contrastanti i gemelli stanno veramente recuperando tantissimi punti in quest'ultimo periodo e ancora di più questa settimana con sole e mercurio in bilancia quindi con un aiuto a prima e seconda decade dal punto di vista fisico di energia di vitalità ma anche di concentrazione mentale inoltre giove è sempre nel vostro segno all'inizio della terza decade e quindi espande aiuta a trovare nuove vie se dovete trovarne nuove amicizie nuovi contatti interessanti sul lavoro quindi soprattutto chi è nato a cavallo tra seconda e terza decade riceverà questo input importante da parte di giove è vero che rimane rimangono le dissonanze di saturno e nettuno che colpiscono seconda e terza decade ma c'è anche da dire che ormai dovreste essere vaccinati contro queste dissonanze e sicuramente il buon aspetto di giove il buon aspetto del sole e di mercurio vi aiuta a fronteggiare quello che potrebbe essere un momento di down per quanto riguarda la seconda decade con saturno appunto dissonante o un momento di confusione per quanto riguarda chi è nato alla fine della dell'ultima decade un'ottima settimana anche dal punto di vista delle emozioni perché la luna non vi è mai contraria questa settimana e sarà particolarmente positiva quando è in bilancia segno amico ovvero da mercoledì 2 ottobre a venerdì 4 ottobre nel primissimo pomeriggio il cancro è sicuramente agguerrito in questo momento con la presenza di marte nel segno soprattutto per chi appartiene alla seconda decade ebbene marte vi dà una notevole assertività capacità di fronteggiare qualsiasi situazione e soprattutto di agire e soprattutto riuscirà ad aiutarvi a fronteggiare quella dissonanza abbastanza lieve dovuta alla posizione di sole e mercurio in bilancia che anche qua tra soprattutto la seconda decade tra prima e seconda decade potrebbe portare qualche momento di scoraggiamento o soprattutto di mancanza di focalizzazione di concentrazione vi sono alleati anche urano nettuno e saturno e questo riguarda questa questo buon aspetto riguarda soprattutto seconda e terza decade sono aspetti ormai di lunga data dovreste essere quasi abituati a questi buoni aspetti che riguardano soprattutto la lungimiranza la determinazione la coerenza e anche per quanto riguarda chi è nato alla fine del segno è la creatività portata da nettuno è vero che in questo momento c'è anche plutone opposto proprio perché è nato negli ultimi due giorni del segno è però questa sorta di inquietudine che può portare questo pianeta potrebbe sempre sollecitare ancora di più la vostra creatività e il vostro lato artistico inoltre c'è il buon aspetto di venere dallo scorpione quindi anche gli affetti sono protetti sono sicuramente sollecitati in modo positivo e marte nel segno può anche aumentare il tasso erotico quindi vedete un po voi insomma ma le cose vanno piuttosto bene dal punto di vista erotico sentimentale vediamo dal punto di vista invece emotivo ebbene abbiamo una luna positiva lunedì e martedì e poi ancora da venerdì al luna e mezza circa del del pomeriggio fino a tutta domenica attenzione invece alle giornate che vanno da mercoledì 2 ottobre al mezzogiorno e mezzo luna di venerdì 4 perché con la luna in bilancia ebbene potreste avere degli alti e bassi emotivi è sempre tempo di luci e d'ombre per il leone perché ci sono sicuramente molti più aspetti positivi rispetto a qualche mese fa qualche settimana fa ma ci sono sempre un po di dissonanze che vi stimolano e certo a volte non sempre al meglio però dipende da voi dare il meglio di voi in queste circostanze e ovviamente migliorare imparare e quindi tirare fuori il re la regalità che è in voi ebbene gli aspetti positivi sono quelli di sole e mercurio dalla bilancia riguardano prima e seconda decade e aiutano sicuramente le attività mentali fisiche quindi la vitalità soprattutto e anche la concentrazione mentale e inoltre da un po di mesi c'è giove vostro alleato dai gemelli che in questo momento si concentra su chi è nato a cavallo tra seconda e terza decade quindi insomma avete veramente una carica positiva con cui potete destreggiarvi e far fronte a tutte le difficoltà che potrebbero venire in parte dalla sfera sentimentale relazionale perché c'è venere dissonante soprattutto la seconda decade e potrebbe far emergere le insoddisfazioni tutto ciò che non va insomma le recriminazioni un po siete maestri in recriminazione quindi insomma fate attenzione e poi c'è sempre la dissonanza ormai settenale perché urano per fortuna è quasi alla fine del suo passaggio in toro che è segno dissonante rispetto al vostro e adesso è nella terza decade e potrebbe far emergere anche qua insoddisfazione e colpi di testa in chi appartiene alla terza decade quindi attenzione le decisioni che prendete perché potrebbero essere irreversibili non è detto che sarete contenti delle decisioni prese in questo momento magari per un colpo di testa dal punto di vista emotivo abbiamo una situazione positiva al mito della settimana e soprattutto le giornate che vanno da mercoledì 2 a venerdì 4 alle 13 e 30 circa sono le più positive e quindi le giornate sì ma da quel momento dalle 13 e 30 circa di venerdì 4 fino a tutta la domenica ebbene la luna sarà in scorpione segno dissonante e quindi attenzione agli alti e bassi umorali per la vergine il quadro non è mutato tantissimo soprattutto per quanto riguarda le dissonanze sono sempre quelle e quindi ormai vi sarete un po abituati appunto come dicevo anche per i gemelli c'è un po l'effetto vaccinazione di certi aspetti soprattutto l'opposizione di saturno di nettuno che prende di mira seconda e terza decade e a cui si è aggiunta da qualche mese la dissonanza di giove che riguarda chi è nato a cavallo tra seconda e terza decade ebbene questi sono i gradi i punti del vostro segno più presi di mira e l'effetto potrebbe essere quello di mancanza di direzione per chi è nato alla fine della terza decade dovuto all'opposizione di nettuno ha un po di demoralizzazione per chi è nato nella seconda decade e ha una tendenza a strafare e magari a fare gaffa dire troppo esagerare per chi è nato a cavallo tra seconda e terza decade per fortuna ci sono parecchi aspetti positivi allora prima di tutto il buon aspetto di marte che riguarda la seconda decade vi dà comunque una bella dose di energia di grinta il buon aspetto di venere sempre seconda fine prima decade e metà fino alla metà della seconda decade che aiuta le relazioni aiuta ad armonizzare le vostre relazioni e anche comunque tutti i rapporti che riguardano chi sta intorno a voi poi c'è il buon aspetto di plutone che riguarda chi è nato alla fine del segno e anche quello di urano idem e questi due pianeti aiutano a fare passi in avanti soprattutto dal punto di vista della carriera del lavoro ma anche un po della direzione generale di vita la settimana inizia con la luna nel vostro segno quindi lunedì e martedì sarete particolarmente centrati e poi sarà comunque in segni positivi soprattutto quando è nello scorpione da venerdì alle 13 30 circa fino a tutta domenica ebbene sarà un weekend veramente sereno e pieno di intuizioni cari bilanci non sono non solo è tempo del vostro compleanno perché il sole sta attraversando appunto il vostro segno anche mercurio vi sta dando una mano dal punto di vista mentale di concentrazione di focalizzazione ma ci sarà anche la luna nuova nel vostro segno quindi sarà un momento di rigenerazione importante il 2 ottobre vi consiglio veramente di dedicare un po di tempo alla riflessione alla meditazione perché sole luna congiunte nel vostro segno indicano comunque una rinascita una rigenerazione e ovviamente si tratta dei temi riguardanti il vostro segno quindi le relazioni sarà molto importante dare concedere un po di tempo a questo aspetto della vostra vita per indagare per esplorare che cosa volete portare avanti nelle vostre relazioni in questo momento oltre sole mercurio e poi la luna nel vostro segno da mercoledì a venerdì a mezzogiorno circa luna e mezza circa ebbene quindi ci sarà sicuramente una concentrazione di energie bilancine avete anche il favore di giove che si trova a cavallo della seconda e terza decade dei gemelli e quindi anche qua chi di voi è nato a cavallo tra seconda e terza decade sicuramente sta passando un periodo piuttosto positivo di apertura di nuovi orizzonti nuove sfide da da bracciare e sicuramente in modo così con atteggiamento positivo e ottimistico però rimangono ancora alcune dissonanze soprattutto quella di marte che riguarda la seconda decade potrebbe rendervi un pochettino nervosi e plutone che è tornato in posizione dissonante ma che riguarda solo chi è nato negli ultimi due giorni del segno e potrebbe riportare di nuovo a galla un po di sensazioni emozioni pensieri che pensavate di aver già superato e comunque è sempre un'occasione per tornare a esplorare le proprie profondità la luna vi amica tutta la settimana perché nel vostro segno dicevamo da mercoledì 2 a venerdì 4 e poi è nei segni contigui al vostro per gli altri giorni quindi comunque è piuttosto positiva e la vostra le vostre emozioni saranno piuttosto stabili questa settimana cari scorpioni non lamentatevi in questo periodo perché avete tantissimi pianeti a vostro favore intanto c'è venere da un pochettino di tempo dalla settimana scorsa nel vostro segno adesso sta attraversando la seconda decade e porta relazioni più armoniose inoltre c'è marte in buon aspetto sempre alla seconda decade che diciamo aiuta alla passione il fuoco l'erotismo ma anche la determinazione la capacità di agire e di essere particolarmente incisivi è vero che rimane ancora all'opposizione di urano che riguarda la fine della terza decade quindi chi è nato nell'ultima settimana del segno però come dissonanza è rimasto solo quello quindi non potete più prendere la scusa dei pianeti degli astri urano sollecita delle decisioni un po troppo impulsive quindi fate attenzione vi aiutano comunque nettuno e plutone se siete della terza decade perché vi aiutano a guardare dentro di voi e a scegliere per il meglio la seconda decade è aiutata anche da saturno che aiuta quindi a stabilizzare le relazioni a renderle più durature più solide ma anche non solo le relazioni anche tutto quello che riguarda il lavoro la vita in generale la prima decade è un po sguarnita di aspetti sia positivi che negativi e quindi probabilmente sarà per la prima decade una settimana non troppo non troppo impegnativa ma anche un pochettino forse priva di eventi quindi a voi piace essere sollecitati impegnati dalle sfide vediamo dal punto di vista emotivo come andrà ci sarà una luna tutta vostro favore perché sarà lunedì e martedì in un segno amico e nel weekend a partire dal venerdì alle 13 30 circa nel vostro segno quindi sarete particolarmente illuminati dalla luce della luna che vi aiuterà ad avere le intuizioni giuste e a prendere le decisioni giuste il sagittario ahimè è forse il segno più contestato più maltrattato dalle stelle purtroppo allora intanto c'è l'opposizione di giove che non aiuta e diciamo che giove e nettuno che sono i signori governatori del segno sono tutte e due dissonanti quindi i nostri amici sagittario che pure non si perdono mai d'animo perché il loro ottimismo non viene mai meno del tutto però in questo periodo potrebbero trovarsi a essere un po' troppo impulsivi a non avere sufficiente lucidità per fortuna c'è il buon aspetto di sole e mercurio che invece da questo punto di vista equilibra un po' le cose e quindi sole e mercurio ravvivano la vitalità ma anche la capacità di concentrazione di portare avanti i propri compiti è cosa che è stata magari un po' difficile ultimamente soprattutto saturno dissonante alla seconda decade e nettuno dissonante a chi è nato alla fine della terza ecco sono questi i punti più dolenti che potrebbero portare un po' di nebbia mentale nella direzione da prendere e anche nel fatto di sentirsi un po' scoraggiati per quanto riguarda i propri progetti soprattutto quelli di lungo corso tra l'altro proprio le primi due giorni della settimana la luna in vergine altro segno dissonante al vostro e quindi potreste avere molti dubbi ma le cose migliorano già da mercoledì con la luna in bilancia un segno invece amico e quindi sicuramente le giornate sì della settimana sono mercoledì giovedì fino a venerdì mattina ma anche nel weekend a partire dal venerdì nel primo pomeriggio con la luna in scorpione che è un segno contiguo al vostro ebbene le cose non andranno affatto male tra l'altro molti di voi hanno in scorpione probabilmente mercurio venere e quindi insomma la luna che passa in quel segno comunque vi aiuta ad aprirvi un po' di più il capricorno un segno super solido e normalmente molto appoggiato negli ultimi tempi da pianeti lenti ebbene questa settimana ha qualche piccola inclinatura prima di tutto perché c'è l'opposizione di marte che prende la seconda decade e c'è la dissonanza di sole e mercurio e anche qua il sole e mercurio si spostano dalla prima alla seconda decade quindi ci potrebbe essere qualche momento di defiance sia mentale quindi di diciamo qualche gaff che potrebbe uscirvi e anche magari un pochino di stanchezza o di mancanza di motivazione però bisogna dire che avete sempre veramente tantissimi pianeti a vostro favore intanto c'è venere che riguarda in questo momento sta proteggendo la seconda decade quindi le relazioni della seconda decade c'è il buon aspetto di saturno che anche qui alla seconda decade arriva in aiuto per portare avanti i progetti di lunga durata c'è il buon aspetto di nettuno e di urano che riguardano la terza decade soprattutto l'ultima parte della terza decade dove è presente anche plutone nel vostro segno e quindi qui ci sono sicuramente delle cose che stanno prendendo forma che cose grosse che possono riguardare voi stessi la vostra vita i vostri progetti di vita ma anche il vostro lavoro insomma qui c'è veramente un sacco di energia a vostra disposizione luna super positiva per voi lunedì martedì e anche nel weekend a partire dal venerdì alle 13 30 fate attenzione invece alle giornate di mercoledì giovedì e di venerdì mattina anche se plutone è uscito dal vostro segno solo momentaneamente e anche se avete ancora la dissonanza di urano che prende di mira l'ultima parte della terza decade sconvolgendo un po i progetti e diciamo spingendo a delle azioni un po impetuose un po troppo poco meditate ebbene avete un sacco di altri sostegni in questo momento da parte del cielo prima di tutto giove che sta ora avendo influenza su che è nato a cavallo tra seconda e terza decade e apre strade permette nuove possibilità intanto vi dà anche una bella spinta ottimistica verso il futuro e poi ci sono i buoni aspetti di sole e mercurio che riguardano prima e seconda decade che facilitano e accelerano tutte le funzioni mentali quindi sarete molto svelti a reagire in questa settimana l'altra l'altro aspetto dissonante invece quello di venere che prende di mira l'area relazionale della seconda decade quindi potrebbero esserci dei momenti magari di non dico di sconforto ma qualche piccola delusione qualche mancanza di comunicazione affettiva che avreste invece voluto avreste voluto ricevere magari delle conferme delle gratificazioni che non arrivano le giornate sì della settimana sono quelle di mercoledì giovedì e venerdì mattina mentre fate attenzione al weekend a partire proprio dal venerdì verso le 13 e 30 perché la luna in scorpione può portare un po fuori alla luce il peggio di voi con magari frecciatine dirette a chi non vi sta tanto simpatico l'unico neo per i pesci questa settimana è costituito da giove uno dei governatori del segno che si trova in posizione dissonante da ormai qualche mese ed è l'unico pianeta che potrebbe procurarvi qualche fastidio soprattutto nel senso di magari di esagerazioni di atteggiamenti da spacconi ecco fate attenzione a queste cose o non esagerare nel bere nel mangiare nel giocare nel gioco nello spendere e questo riguarda soprattutto chi è nato a cavallo tra seconda e terza decade per il resto va tutto benissimo siete veramente protetti da tutti i pianeti avete il buon aspetto di marte che vi dà grinta vi dà audacia assertività e anche insomma un po di spinta di fuoco dal punto di vista appassionale e marte riguarda la seconda decade e anche venere è in buon aspetto la seconda decade dallo scorpione e anche qua aiuta la sfera relazionale quindi aiuta a fare pace se avete litigato e comunque a migliorare le vostre relazioni in generale ma soprattutto quelle affettive c'è nel presente del vostro segno saturno sempre nella seconda decade che è vero che saturno è sempre un pochino limitante un po depressivo però in questo caso aiutato da marte e da venere anzi vi aiuterà magari a creare stabilità nelle vostre relazioni c'è il buon aspetto di nettuno di urano di plutone che riguardano la terza decade soprattutto la fine della terza decade e quindi insomma anche qua c'è una spinta positiva verso il futuro e soprattutto a creare nuove situazioni a pensare al a progetti a programmi del vostro lavoro del vostro futuro o comunque anche di riforma individuale interiore perché sono anche pianeti che vi fanno andare in profondità dentro di voi quindi insomma siete un po cavallo forse la prima decade è un po meno sollecitata dai dagli aspetti e quindi ecco per la prima decade forse la settimana non sarà memorabile ma non sarà neanche tanto male solo le giornate dei lunedì e martedì con la luna nel segno opposto potrebbero essere un po confuse e un po così ad alti e bassi emotivi sicuramente molto meglio il weekend a partire da venerdì alle 13 30 fino a tutta domenica con la luna in scorpione il vostro intuito sarà veramente molto molto preciso e voi sarete centrati e con questo concluso che questa settimana io vi aspetto settimana prossima con un nuovo oroscopo della settimana e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monica amarillis.com